Ok andiamo Scav Oh vai 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 Dentro dentro qua Riuscito pure a prendermi Controllati Ok non mi ha fatto un cazzo Ti hai preso il casco? No no aspetta Oh merda Cazzo mi ha preso la gamba Un attimo che mi curo L'hai preso? Penso di si Lancio granata L'ho visto morire con la granata proprio Ok andiamo Brito Sinistra ok ho una sinistra Andiamo andiamo Carico Io pure Anzi no ce l'ho Controlla a sinistra Ok A sinistra sinistra Eccolo Resto ma a sinistra vuol dire controlla a sinistra Ho controlla cazzo Titi coperto E' oltre il muro Oltre il muro Lo vedo lo vedo A sinistra Vado più a sinistra Ok Oh merda Merda va qua Va qua Ricarico Arrivo Morto Ho ricaricato Grande C'è un altro Aspetta torna qua Cazzo Controllati L'ho tirata Vai dentro la stanza Controllati Merda Ho il braccio destro zero C'hai il kit CMS Si si lo sto usando Compro io Che trivellata che gli ho dato Ok Secondo Oh sei tu che cammini No Dove lo senti Io non sento niente in realtà Ok ci sono Oh eccolo In fondo Lancio granata Aspetta io vado a destra Andiamo in due Andiamo in due Ucciso Ucciso Bella Ok torna indietro Torna indietro Non luttarlo Non luttarlo Aspetta Andiamo c'è una controllata Io sto a foto Io no Aspetta Soldi spesi bene Bella Rick Devo controllarmi un po' di più però Perché mi viene proprio l'ansia Cazzo Controlla le armi se sono cariche Si 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 è già fatto Si si è già fatto Magari se ci stanno armi Buone Su quello di destra Non lo so ma su quello di sinistra Sicuro Fai luttalo che ti copro Si un cazzo invece Porco due Guarda che c'ha Vabbè Ok era un livello 47 Tutti i caricatori da 60 C'ha Buona Ma ora leono tu Sei al pomeridiano o mattina? Erano le 7 mattina Non lo so Rick Non sono convinto Non so Rick Se sbaglia non essere convinto Se non mi ricordo male Oh occhio Dietro indietro 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 Mettiamo qua un attimo Oh è oltre il muro Sei tu che metto il selettore di tiro? No È oltre il muro Via 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 Esci Esci qua fuori a sinistra Ha accettato una granata Merda M'ha fatto male Oh cazzo Corri Dobbiamo uscire da qua A destra Lo sento qua a destra A destra? Si Oh cazzo Ho ucciso Ho ucciso Grande Coprimi No no vieni qua Andiamo qua a sinistra A sinistra Vieni Va Devo curarmi Io pure mi devo curare Ok Sei pronto? Si Ok andiamo E lo lascio in là il corpo? Si si lasciamolo Anche perché il suo amico probabilmente sarà lì che aspetta che andiamo a ruttarlo Quanto spreco? Magari torniamo dopo Aspetta che controllo Se c'è qualcuno in fondo C'è uno scavetto Oh cazzo Dov'è? Merda 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 È un PMC Cazzo È dentro Dentro il finestro Un attimo che mi curo Cazzo Ma tutti io li becco oggi La macchina c'è Ok andiamoci dentro Andiamo Vieni Era dentro la rampa di metallo Faccio granata Occhio Vai 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 dentro Oh ma c'è uno qua Dentro 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 Non c'è nessuno C'è 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 Uno l'ho ucciso io Controllo di qua sinistro io Oh Dov'è? Ho ucciso un altro Un scav Si Ti è sparato da sopra lì prima Torna qua Torno giù Barichiamoci qua Aspetta fammi controllare Qua intorno Comunque secondo me Era un PMC Che cazzo è stato Flash ha scappato Secondo me sì Perché Aveva dei colpi L'arma tipo un po' silenziale Oh è sopra Andiamo sopra Ma che cazzo ci frega È dentro qua Dentro la stanza Apro non c'è granata Oppimi Oh è uno piccolino Uno piccolino Occhio di trovo Vai vai è da solo È piccolino Ma è morto È morto È morto Cazzo Era un livello 11 De merda Oh ma sono tutti i scab Ti avevo Oh Non era uno scab Quello Sì Era uno scab Sì Ok Vai a destra Ok no Non era uno scab Non era uno scab No Ok vieni con me allora Ce n'eravamo uno grosso sicuro Occhio cazzo Ucciso ucciso Ricarica ricarica No no ce n'avevo avuto 60 Era Vieni 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 Andiamo 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 restante Andiamo 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 Cazzo Merda Andiamo ricaricare Vai vai ricarica Ricaricato vai 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 andiamo su Qua 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 Amico. Ok. Allora, un secondo, vediamo. Torniamo da 200 minuti, ok? Ok. Andiamo. Sarà per un'altra volta. Sì, è che ci è andata bene oggi, non siamo mai morti.